La confidenza fatta ad un collega della Gazzetta dello Sport trova puntuale confedio. Quando mettemmo queste 100 milioni a casa degli uomini, ti ricordi? Sbagliare i pregi, adesso è servito a qualche cosa, a ricordarsi che non... Tante belle dimostra che oggi Zeriato con 5 anni, 6 anni, e non sbaglia più. Quindi gli sta facendo, gli dobbiamo cambiare il numero, dobbiamo portare la 100 avanti. Tu fai come a lui le 100 milioni, io non le metto più. No, ha detto che mette 100 milioni, invece dei 100 milioni. Ma che vedete che l'accordo che abbiamo fatto è molto più di 100 milioni. L'amico si scorda che abbiamo fatto l'accordo giorni fa più di 100 milioni. Il terzo sigillo di chi ne ne scatta più che il Banconote ha sempre avuto dinamica. Francesco Baiano, che appoggia, chiamano Ciccio Golper, i 26 segnati nello scorso torneo di Serie B.